hola io sono marcus cron abbiamo fermato un po di esperienza qui in collegamento satellite con me c'è il buon keledan ciao cari e oggi l'ingegnere e il tecnico vanno a fare a fare dei compiti poco ingegnerosi e poco tecnici sinceramente io nella scorsa puntata caro mio mi sono fatto la l'arma di cui ho smesso di voler pronunciare il nome quindi chiama la vajra la vajra esattamente e ho farmato tra parentesi altre tre teste di guida ti faccio vedere cosa ho fatto così allora aspetta che già soffesso è perché giustamente prendo le mie due testoline e te le porto ha visto che tu prendi le due testoline io vado a ricaricare giustamente la gravity e la ricarico la ricarico la ricarico qua bene bene quindi sarà un'avventura difficilissima sì 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 io ero deciso per prendere la gravity o l'armatura di pelle però poi la gravity è bianca preferisco quella ma la pelle mi fa un po di prito un po di irritazione ok 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 allora no allora prendiamo la gravity ma è solo per questione morata verrà uno scontro epico che durerà due ore e si ma soprattutto moriremo numerose volte assolutamente nel eccolo qua ah ok perfetto sei linkato qui eh sì sono linkato qui allora caro mio tu sì ah qui ho fatto la farm di guida di guida quindi nel momento in cui vogliamo ucciderne altri vieni a poveri e praticamente eccolo qui c'è una scalettina e niente loro non ci arrivano e tu ci arrivi a loro che cattiveria lo so prende tutti i mostri la mia missione è di prendere tutti i mostri in minecraft metterli dentro una scatola e torturarli e sodomizzarli anche se non ho capito ancora se sono vivi o morti comunque di qua invece ho preparato un libro di quelli che avevo scartato ritorno verso te caro marcus al futuro eccolo qua un libro che ho preparato di qui che si chiama snow withers è un mondo scartato non molto interessante ah benissimo quindi ci andiamo e poi ho preparato nel dubbio questa torre che ci che ci segnala che ci segnala dov'è nel caso molto probabile in cui morissimo qui dentro c'è un libro per tornare a casa perché il non so se lo sai il wither comunque lancia dei blocchi esplosivi che rompono anche l'ossidiana se non sbaglio ah chissà se rompe anche lo secorium shield non lo so comunque ci dobbiamo spostare un pochettino perché quel sono ben avvelenato ah hai di che sfocarti di che sfocarti sul wither non so cosa vuol dire no sfocarti sfocarti ma ho un'arma qui c'è una spada di tolla sei quella di legno e non solo questa so che 106 mila colpi io ho la chiave inglese pensavo anche che ammazzava pantofolata in testa ok sono un nabbo non ho preso la soul sand torno subito ma perché sono ammalato come un bimbo io scusami sono ammalato c'è uno scelte di pollo verdi c'è fame in questo mondo però non credo che c'è tu hai da mangiare se no te lo porto sto mangiando l'africa ah ma scende così tanto vogliamo usare un altro mondo ma no scendono la fame in effetti ok siccome c'è tanta fame è il terzo mondo questo è brutta questo è bruttissimo dove sei che non ti vedo accidenti ecco ti dai sono dissi un mare di lava va bene ragazzi proviamo questa durissima avventura io lo so già mettiamo un letto qui perchè faremo tanti rispondi dove vai vieni lontano da là che quello esplode sto tizio ma dov'è dov'è cosa qui è al guidere e lo dobbiamo fare no lo facciamo qui metti la soul sand se non sbaglio dovrebbe essere fatto così e sopra si sedasi alla testa allora io vado eh vado si aspetta che ne metto due poi mangio visto che ci sto ah ah io posso avere l'onore di mettere un sì 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 certamente ti registro da lontano aspetta mi mangio anche una una mela d'oro vuoi delle mele d'oro ah sì perfetto levano il dottore di torno ti sono passato attraverso cosa fanno le mele d'oro rigenerano un pochino danno oltre alla fame danno dei cuoricini in più ogni tanto che trick vado vada 3 2 1 paura scappa allontanati 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 quello schioppa ah che delizio si fa un piccolo botto fa un pirito praticamente si eh adesso si è caricato eccolo ok perfetto andiamo 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 che paura oh mio dio guardate quanti danni mi sto facendo no ragazzi così è brutto no veramente se scendi per quello scappa come una iena praticamente scendi giù non vorrei perderlo sta scendendo sì 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 ma io provo il mio arco incantato vediamo quanto gli fa spara frecce di fuoco oh buono è comunque dopo metà diventa ma diventa immune alle armi da lancio e infatti eh mi spiace per te ma la bacina c'ha fame no non venire sotto tu se no ti picchio oh verabbè dove è finita la real star no dove è ragazzi è già morto incredibile qui c'è una pavera non so se possa essere intesa come la real star allora qui c'è la sua esperienza oppla non è che l'hai presa tu oh guarda eccola qua era qua vicino caro mio che bellezza che bellezza ragazzi scusate se vi abbiamo messo un video di due ore però è stato è stato davvero complesso eh sì 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 mi dispiace mi dispiace mi dispiace magari però potremmo vivacizzare il tutto però del copper lo scaviamo giusto per raggiungere un po' di tensione tensione senti metti un'altra testa dai 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 dove sta ercoso ercoso praticamente questo lo possiamo farmare se riuscissimo dov'è? mi sono perso dov'è la colonna? la colonna è qua no 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 dove sei? dove sei? dove sei? sono dove abbiamo fatto a perdire la prima volta il ciccettone ah ah ok ok ma com'è difficile ragazzi sì infatti no sinceramente è davvero impossibile in minecraft normale ma qui è una passeggiata ecco ti caro tuo caro tuo probabilmente la frase dell'uomo qualunquista e io ho piazzato una testa allora facciamo di nuovo ragazzi altre due ore di registrazione beh io cerco del copper comunque non stavo scherzando nel frattempo penso che sono molto emozionato ma lo so lo posso picchiare mentre no 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 è immune è immune? è positivo sì marcus ma hai fatto un mondo senza copper vediamo quanti danni non mi ha fatto nessun danno va bene ok vediamo eh che è l'antiprego vieni mi aiutare no marcus sta a morire sta a morire ecco qua un colpo io voglio dare anch'io prego prego si accomodi ce lo rimbalziamo palla tua non riesco a beccare aspetta aspetta scendo scappa troppo velocemente l'ho preso oh oh poverino ecco ce l'ha ce l'ha ce l'ha oh grandissimo eh ragazzi andiamo a fare dei graffing ma che potrebbero essere più avventurosi madonna mi ha fatto più mare e bere no ho crashato come mai sono stato bannato sei stato bannato non mi ha sconfitto e wither mi ha sconfitto e banno del server flying is not enabled on this server ma è impossibile sì sì oh my god ma mi ha subito ripreso per fortuna meno male sai che per esempio in certi casi può succedere con la towncraft ma perché bruci le valk perché sono avversari più ostici del wither nel senso che sono dei osti sì esattamente osti perfetto questo è il torno indietro perfetto mi sembra un libro di harry potter di fanta che ho ok dai i primi 5 minuti ce li siamo passati perfetto allora cosa si forgia prima si consegna la nether star a marcus cron prego ecco il tiro tuo lui fa il gioco lì è il gioco di me d'oro da 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 quindi già io le ho rubate diverse oh grazie mille vediamo un po' cosa ci si fa con questa cosa vediamo un po' tasto d'eso su nether star si fa uno beacon il bigolo poi gravity gun ma com'è gravity gun la supercharger che fa cosa fa la supercharger gravity ma che che diavolo ah ok 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 no stavo stavo per rosicare però adesso mi sono mi sono mantenuto perché se guardi non ti fa fare la portal no a te si fa con un'altra cosa si fa con il miniature black hole ah ok buco nero in miniatura in miniatura in bucchettino caro marcus c'è un altro elemento molto pregiato che si fa con questo aggeggio qua che è l'inventory module che si attacca alle tattolo al computer non mi ricordo si e permette di identificare e maneggiare gli inventari cosa che le tattano normalmente non possono so che è un elemento in super beta della miss peripherals yep e sarei proprio curioso di provarlo guarda quasi 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 io bruscerò la mia per farmi un invention di modus ah vabbè che quando abbiamo anche due orette di tempo per metterci a uccidere i wither potremmo fare altri io andrò su un più banalissimo portal gun ma scusa ma la supercharger gravity secondo te cosa fa? guarda l'ho provata in creativa nel mio mondo personale e posso assicurare che non è un buon investimento non fa niente fa più danni spara più lontano ma sinceramente la gravity va bene lo stesso va bene dai senti ti accompagno da qualche parte che vediamo questo crafting va bene va bene va bene dimmi un posto dove non ti faccio no quartier generale va bene non ti faccio degli spoiler no ma anche se lo fai fa niente io oggi ho caricato il video da 50 minuti se vuoi un pezzo di torta grazie favorisco ah no non ho fame dicevo sai che io carico quasi in tempo reale si 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 lo so lo so non ti preoccupare va bene ah ma questo si può vedere scusa scusami ci sta metto qua certamente ah l'hai già dimostrato no ancora no non ti preoccupare beh cavoli comunque un capolavoro è bellissimo così eh si si è meraviglioso elegante pratico devo sistemare un po' di cose e non è così pratico quanto credi però è bellissimo beh certo non tutti possono permettersi un servitore che mette le cose a mano perché come vedete i tubi non ci sono già già lui ha un piccolo bimbo miglia che passa sotto un giorno esattamente esattamente probabilmente è piccolo e minuto è un nano ma è un nano fantasy no vabbè qui c'è l'anticamera non posso fare queste cose scusa no vabbè andiamo eh non è giusto spoiler allora io sto cambiando la testa basta no no ma figurati guarda i piedi della quantum suite di marcus ok però gli prendo dei segni vediamo ma come funziona sai che non sono capace neanche di usare il battle allora shift clic sinistro ti dà un'unità clic sinistro ti dà uno stack e per rimettere ci clicchi sopra ci clicchi sopra con tutta la quantità che vuoi e lui te la put inside allora io ho fatto no no attenzione non si fa così non si fa così come si fa con la polvere di ender ah macera la polvere di ender di macerare l'ender pearl ah non ci si fa nient'altro soltanto questo e vabbè macera e polverizza allora io vado di qua nel mio polverizer ah scusami ah si si macerano si fonde c'è una doppia scelta fornace o lo mettiamo lo mettiamo lo mettiamo lo mettiamo dove è finita? questa pasta cosa? mi sono perso le ender pearl io sto camminando testa a pasta no no cammina guarda guarda non è un problema davvero ma mi vergogno davvero davvero io ho quattro tubi in croce buttati sul tetto come svistamento ok no il polverizer non le vuole peccato dai le fornaci ah le fornaci si le fornaci quante me ne da? me ne da? 4 ah porto numerose allora io per fare il mio letto inutilissimo ragazzi capisco perché non se ne vadano ma senti il beacon che sarebbe un faro cosa fa? il beacon è la prossima cosa che voglio fare praticamente è un è vanilla non è moddato e quindi qui non ha grande utilità però sostanzialmente se viene posto sopra a una piramide di cubi di materiale raro smeraldo ferro oro diamante ti garantisce degli effetti benefici altresi detti buff ah perfetto che però in realtà noi garantisce la quantum quindi speed ah che figata che ne so protezione dal fuoco tutte queste cose non ci servono assolutamente beh però quando andremo a spassarci tra i nostri amici scheriprimieri no si si guarda mia intenzione è farne una sopra la torre in modo che il cielo assomigli sempre più a baragdool comunque io devo fare la porta al piano che sembrerebbe la capitale della lega che lo dur baragdool è la baragdool l'ho appena letto dell'hobbit bravissimo bravissimo mi sono riletto l'hobbit annotato da tanto tempo lui lo legge la versione annotata io la la prima versione del signore Ranelli che ho letto e che tra l'altro non rileggerò perché mi voglio bene no è un bellissimo libro era annotata e devo dire che effettivamente un trauma guarda me ne avevano parlato tutto il bene io ero bambino praticamente e leggere 30.000 pagine di soltanto la descrizione dei regali di Bilbo Baggins alla festa sì sì signori tipo in questa frase Tolkien ha stabilito abbiamo la porta a canna è già fatta yes che bomba senza senso beh perfetto per me non funziona infatti non va dov'è? dov'è? non vedo niente eccolo tuffo funziona però non fa l'effetto del buco nero no 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 l'hanno levato perché andava in conflitto con la la minimappa ma pensate Berlusconi in conflitto di interesse da 50 anni eh no è legittimo impianimento l'hanno l'hanno tolto ah l'ha tolto anche lui sì sì l'hanno tolto perfetto a posto caro mio ce l'abbiamo fatta è stata durissima io vado a questo punto a casa e faccio questo oggetto inutile per le tattone no poi mi dici mi dici quali applicazioni ha perché sinceramente io la miscperiferical non la conosco eh ma sai qual è il problema caro mio sì che come tante cose che tu ti sei dovuto studiare a mano a memoria a tentativi empiricamente io più empiricamente guarda non è documentata quindi c'è proprio da ah quindi devi guardare sì sì ok eh sì mo intanto la faccio visto che la mia specializzazione dovrebbe essere da computer craft beh io non so quanto abbiamo registrato però sicuramente la gente si è rotta le palle già dal primo minuto il video più corto della storia allora vado al tempio trasporto ma mi stai facendo dei nomi un po' da fantagiro eh Romualdo ma il mio secondo nome è Romualdo ma va va benissimo ragazzi abbiamo duramente scoffitto due guider noi abbiamo ovviamente velocizzato il video però durava 15 ore siamo morti 70 volte abbiamo viettato sangue vi ringraziamo ciao Kaledon ehi ciao io terminerò con un crafting quindi vado avanti ancora un minuto ok ok allora io vado a finire il mio mob spawner di muc vabbè io saluto Marco e te e tutti i tuoi cari iscritti ciao Kaledon e ciao a tutti i tuoi iscritti ciao